Presidente, quali sono i momenti più difficili che state vivendo? I momenti più difficili sono stati e mi auguro che sia il passato. Il problema è che noi temiamo molto il presente, perché se questa mattina io ho sentito alla televisione che si prospetta il fatto di rimettere il giallo, il rosso, l'arancione, noi non lo potremmo sopportare. Noi non riusciamo, nessuna delle nostre attività, nessuna delle attività che rappresentiamo, riuscirà a un altro lockdown, sarà un fallimento totale. Quindi io credo, proprio mi appello al buon senso dei nostri cittadini di osservare le regole, perché forse con le regole salviamo il commercio, le attività e salviamo Roma. C'è qualcosa in particolare che rimprovera nelle iniziative del governo? No, io non sono all'altezza e non oserei assolutamente criticare il mio governo. Una cosa però, forse, credo, dubito, ho il timore, vede prima di parlare quanti dubbi metto, che sia stata un po' affrettata l'idea di dire liberi tutti, perché è vero che il governo non ha detto liberi tutti, ma il popolo stanco di due anni, di un anno e mezzo, di due anni di chiusure, ha pensato viva l'estate, liberi tutti. E questo ho paura, ho paura, temo, mi auguro che non si debba pagare a settembre-ottobre, perché nessuna attività riuscirebbe a sopravvivere con un altro lockdown. Ecco, la mancanza di turisti non solo ha colpito il turismo in senso generale, ma anche il commercio. Soprattutto, il turismo ovviamente, ma il commercio, tutto. Praticamente le città d'arte, come può essere Roma, io adesso parlo di Roma, se potrei citare Perenza e Venezia, tutte le città, l'Italia è tutta una città d'arte, e noi vivevamo con il turismo, quindi è la prima cosa che abbiamo sentito, la mancanza di turisti, ma dei turisti come venivano prima a un certo livello, perché adesso che si inizia a arrivare i turisti, ma più che turisti sono pellegrini, senza per carità nulla togliere, ma ci vuole il turista che spende. Ecco, a Roma c'è stato spesso nel commercio molto abusivismo, questo ha complicato ancora più le cose? Indubbiamente, io sono per le regole, e se c'è l'abusivismo complica tutte le regole del commercio quello sano, e questo è indubbio, cioè è alla luce del sole. Qui al centro statico già chiudevano durante l'anno 7-8 negozi, adesso la situazione com'è? Ma adesso la situazione è gravissima, perché i negozi chiudono, ma la cosa triste è che quelli che non chiudono, non si sa chi subentra. Questo è il problema, perché ormai sembra che tutta l'Italia, e forse anche l'Europa, sia in vendita. E questa è la cosa che... Cioè, se mi dicono che Venezia non è quasi più dei veneziani degli italiani, è un punto interrogativo che ci dovremmo porre, tutti quanti, ma soprattutto il governo? Non lo so. Ecco, come ultima domanda, dovevo fare, come Confimpresa, Roma-area metropolitana, che cosa vi aspettate, che cosa state facendo? Le aspettative sono tante. Ci auguriamo, prima cosa, noi credo che dobbiamo attendere le elezioni, dobbiamo vedere chi sarà il nuovo sindaco, il sindaco che avrà il coraggio di prendere in mano una città che io non voglio fare critiche a nessuno e neanche alla nostra sindaca, però indubbiamente Roma ormai non è più una capitale del mondo, è solo sulla carta, perché non trovo niente che rappresenti una capitale europea. Mi scusi, non vedo che è una città quasi provinciale ormai diventata e questo è il problema. È inutile che iniziamo a dire Roma è un museo a cielo aperto. È vero, Roma è un museo a cielo aperto, poi ci troviamo che il museo a cielo aperto diventa piazza del popolo, la piazza del baladier, quando, perché fare, mettere tutte quelle cose in una piazza così importante, ma a Parigi, a Place Vendôme, avrebbero permesso una cosa del genere e poi gli spazi ne abbiamo. Perché non farlo a piazza di Siena? Questo è il problema, dove forse la gente stava anche meglio, respirava meglio e forse c'erano meno contagi. Adesso dicono ah ci sono i contagi perché i ragazzi stavano senza mascherina, perché erano una calcata all'altra, ma che non si sapeva prima. Scegliete un altro posto, no? Ce ne sono tanti a Roma e allora se è vero che Roma è un museo a cielo aperto, Roma deve essere rispettata e oggi a me non sembra che si rispetti. Punto. Presidente, chiudiamo con un nodo di ottimismo. Un nodo di ottimismo. Eh, ottimismo è una parola grossa, me lo auguro, speriamo. Grazie.